oggi qui alla cascina fossata di torino un borgo vittoria abbiamo presentato la guida dei ristoranti della tavolozza edizione 2021 in questa location che è particolare anche perché per la prima volta è inserito in guida l'osteria dei dodici archi presentiamo i ristoranti che fanno parte qui per torino di questa guida con delle evidenze che sono naturalmente certificate dalla qualità e soprattutto dal rispetto di una regola che è quello di avere la facoltà di essere custodi del territorio e quindi proporre una cucina inerente al territorio e un'accoglienza ultimale questi sono i ristoranti della tavolozza della città di torino Grazie